Ciao a tutti, quindi era importante anche qui a Radio Rebel di raccontare questa nostra avventura qui a Sanremo Rock quindi noi siamo stati selezionati, abbiamo mandato i nostri brani e devo dire che abbiamo avuto una recensione fantastica anche da un certo punto di vista inaspettata e quindi adesso proseguiamo il cammino, adesso suoneremo nuovamente sul palco di Sanremo Rock con la band tutta pugliese, oggi c'è una delegazione, Luca Amodio che è il tastierista della band quindi subito dopo la registrazione di Meccanismo Irregolare su Arreggio Emilia al Vox è partita la promozione e i contest, infatti la prima volta che abbiamo suonato poi insieme come band pugliese è stata ad Arezzo Wave, poi abbiamo fatto il Tour Music Fest a Bari il 23 ottobre faremo la seconda fase e poi è nato appunto Sanremo Rock, la nostra candidatura, siamo stati selezionati e quindi adesso nei prossimi mesi andremo a suonare sul palco di appunto prestigioso di Sanremo e quindi il nostro prossimo obiettivo è oltre a continuare a presentare l'EP è registrare un nuovo brano e registrare insieme un videoclip che poi andrà in giro su tutte le piattaforme un'altra tappa importantissima è stata quando sono stato chiamato a fare un provino col grande maestro Mogol al chat, quindi alla sua scuola per cantautori e quindi oltre a un'esperienza umana e anche musicale importantissima poi è nato il fatto di partecipare con un mio brano, in realtà con un mio testo a un contest, chat autori scuola di Mogol è un mio brano, quindi qui in Puglia sono stato scelto un mio brano è andato in un libro che è uscito proprio nei giorni scorsi che presto faremo una presentazione dove un po' si parlerà di questo brano lo suonerò e andremo un po' in giro meccanismo irregolare che rende